Nell'interesse del calcio a Cava dei Tirreni, il Comune farà tutti i passi che riterrà necessari. La priorità è adeguare lo stadio Simonetta Lamberti alle esigenze della Lega Pro e la delibera di giunta per il progetto di fattibilità è stata approvata nei giorni scorsi. Prossimamente si andrà in gara. La Cavese con la salvezza aritmetica ha conservato il titolo a iscriversi al campionato di Serie C, ma per poter fare questo avrà bisogno che l'impianto cittadino sia perfettamente a norma e rispondente a tutte le prescrizioni della Lega per la stagione calcistica 2019-2020. L'ente sta provvedendo ad adeguare il Lamberti alle universiadi, con interventi che interessano in particolare l'ingresso dello stadio e la stabilità del settore distinti, la videosorveglianza e l'impianto antincendio. Ma la Lega rispetto all'anno scorso ha chiesto un'illuminazione più forte e torri faro più elevate, un nuovo gruppo di continuità che entra in funzione in caso di emergenza e anche l'installazione di seggiolini nei settori paralleli ai lati lunghi del recinto di gioco, quindi tribuna e distinti. Approssimativamente saranno circa 3.000 sediolini monoblocco. Tutto ciò costerà circa 1.200.000 euro e per questo il comune retto dall'amministrazione Servalli richiederà un mutuo presso il credito sportivo. Come già emerso nel corso della nostra trasmissione gonfia la rete, condotta da Nunzio Siani, le torri saranno posizionate non più in corrispondenza della linea centrale del campo, ma sul prolungamento delle diagonali del rettangolo di gioco per una corretta distribuzione del flusso luminoso in tutte e quattro le direzioni verticali. Non mancano però le problematiche. Infatti, per la realizzazione della torre che dovrà essere ubicata tra i settori curva sud e tribuna, è necessario rimuovere una porzione di gradinata. Ciò però non comporterà la riduzione della capienza dell'impianto sportivo, poiché la zona individuata è già attualmente destinata a zona filtro. La sussistenza dei necessari requisiti infrastrutturali negli impianti in uso a ciascun club dovrà essere oggetto di accertamento e successiva certificazione da parte della Lega Pro entro il primo luglio e il rilascio di tale certificazione costituirà una delle condizioni imprescindibili per l'iscrizione al campionato di Serie C. Tuttavia le società, in linea generale, che non dovessero ancora garantire per quel periodo uno stadio a norma nel proprio comune, potrebbero avere la possibilità di indicare provvisoriamente un altro stadio. Il caso di Cavaletti-Reni non è infatti l'unico in Italia.